Era nata come tutte le mattine nella chiesa di Araceli in città e di certo non si aspettava ad essere alleggerita di tutto ciò che aveva con sé. Brutta avventura per una donna di 88 anni, residente in città, che mentre era inginocchiata e concentrata nelle sue preghiere è stata avvicinata da un tizio, un nomade, che le ha rubato borsetta con dentro 350 euro, documenti e bancomat. Lei è riuscita a vedere mentre il ladro scappava in sella a una bici, ma non è rimasto che denunciare il furto al 113.